Bentornati su Resta Quel Che Resta, io sono Nino, questo è un nuovo appuntamento con Tutto Edoardo, quindi nuovo appuntamento, la serie la conoscete ormai, credo di sì, poi magari se questo è il primo video potete recuperare l'intera playlist di Tutto Edoardo, raccontiamo le opere del grande Edoardo De Filippo. Quindi oggi ce n'è una nuova ed è il turno di quei figuri di 30 anni fa, scritta da Edoardo nel 1929 e messa in scena a partire dal 1932, come sempre trama e contenuti extra, curiosità che ho raccolto per voi, alcuni già li conoscevo, altri li ho scoperte successivamente perché ragazzi c'è un grande lavoro di studio dietro questi video, attraverso libri, attraverso filmati di tutto e di più, cose che ho sempre fatto nella mia vita ma che adesso rifaccio con maggiore piacere visto che questa mia passione la sto portando a voi, condividendo con chi già ama e conosce Edoardo ma magari anche facendolo scoprire a persone nuove, questa per me è una grandissima soddisfazione, anzi per questo vi dico anche commentate qui sotto se avete qualcosa da dirmi in merito alla commedia, nello specifico video, oppure in generale su Edoardo, cosa conoscete di lui, cosa vi piace, se lo avete scoperto magari grazie a me, qualsiasi cosa, mi fa piacere leggerlo qui sotto, lasciate anche like, c'è il pollicione, qui ci cliccate sopra, importante, un buon feedback, magari il canale cresce e quindi possiamo allargare i nostri orizzonti e la nostra conoscenza di Edoardo. Allora, cominciamo dalla trama dell'atto unico appunto di cui vi parlo oggi, quei figuri di 30 anni fa, è un atto unico, è una commedia, è una farsa più che altro, una commedia degli equivoci, quindi molto divertente. Allora, la trama, i fatti di questa commedia si svolgono all'interno di una bisca dove si pratica il gioco d'azzardo clandestino, infatti clandestino perché viene presentata come il circolo della caccia, il circolo dei cacciatori, in modo che eventuali controlli delle forze dell'ordine, è un semplice circolo di cacciatori, in realtà è una bisca clandestina gestita da Don Gennaro Fierro, un ex detenuto, insomma persona poco raccomandabile e in generale proprio frequentata da personaggi insomma simili a lui, quindi ex detenuti, ricercati o persone che stanno andando in rovina proprio a causa del gioco d'azzardo. Un bell'ambientino, ecco diciamo così, si ritrova per una serata in questa bisca anche un personaggio che in realtà non c'entra nulla con quelli che vi ho appena descritto, tale Luigi Poveretti, che potremmo definire Poveretto di nome e di fatto, faccia pulita, sempliciotto, anche un po' tonto, ecco passatemi questa definizione del personaggio, che però si ritrova in questa bisca perché viene notato da Don Gennaro appunto il proprietario e quella faccia così pulita e insospettabile può fare al caso suo per quanto riguarda il barare, perché a Don Gennaro serve un palo, un complice per spennare il pollo, ovviamente non parliamo dell'animale, anche se ecco il tonto Luigi Poveretti all'inizio capisce anche questa cosa qui, ma parliamo nel gergo del gioco d'azzardo spennare il pollo, ovvero spillare soldi a un giocatore che magari o non sa giocare bene, oppure non è tanto lucido da capire che lo stanno imbrogliando. Ci sarà un pollo anche in questa serata, l'avvocato Peppino fatti bene, ma serve appunto un palo, un complice. Don Gennaro, diciamo così, assolda questo Luigi Poveretti promettendogli ovviamente del denaro in cambio e inizia a dare a lui una serie di istruzioni sui comportamenti che dovrà tenere durante la serata, quando tutti saranno intorno al tavolo di gioco e Don Gennaro sarà il banco, il mazziere. Quindi una serie di istruzioni della serie, tu ti metti intorno a me, fai il vago, giri, nessuno farà a casa a te perché sei una persona nuova e in generale, ripeto, hai una faccia che non testa sospetti, ti metti lì con le cose che ti ho dato, con le carte che ti ho dato prima e allora che succede? Magari mi gratto la testa, tu vedi questo gesto e mi passi sotto banco quella determinata carta. Oppure io dico, chi vuol tagliare il mazzo, tu devi subito proporti perché io in precedenza ti avrò dato un piccolo mazzettino di carte con le carte già messe nell'ordine che mi serve e dovrai sovrapporlo, te lo metti qui sotto la mano e lo vai a sovrapporre al vero mazzo. Insomma, tutti questi stratagemmi per far chiudere la partita in favore del banco e non del pollo della situazione. Una serie di istruzioni lunga, tortuosa, che lo stesso Luigi per quanto tonto si rende conto che è difficile da eseguire, infatti vorrebbe anche andare via ma gli viene impedito. Successivamente arrivano altri complici, diciamo così, del boss della situazione di Don Gennaro che portano appunto il pollo che è un avvocato, l'avvocato Peppino, fatti bene, un tipo inizialmente anche un po' snob però comunque curioso di quell'ambiente, anzi quando poi inizia a giocare appare anche un po' tirchio però diciamo che poi gli stratagemmi per convincerlo a giocare un po' di più anche facendogli perdere la lucidità ci sono come magari delle belle ragazze intorno a lui, come magari un po' di alcolici e quindi poi alla fine insomma si va per giocare. Io mi fermo qui nel racconto della commedia perché appunto voi poi potete recuperarle, adesso vi dico anche le varie versioni però capirete bene, visto che ripeto è una farsa, è una commedia strapparisata, capirete bene che la serata non va esattamente come era stata immaginata da Don Gennaro, anzi va sempre peggio visto che poi a un certo punto arrivano anche le forze dell'ordine basta, mi fermo qui, passiamo ai contenuti extra, come li definisco io, delle varie opere allora, la curiosità più grande legata a questa commedia è il titolo, il cambiamento del titolo perché il titolo nel corso degli anni è cambiato tantissime volte, tante volte diciamo nel 1929 quando Edoardo la scrive il titolo è La Bisca quindi molto semplice, non c'è tanto da fare, chissà, da destare, chissà quale curiosità già dal titolo molto semplice, La Bisca c'è un problema però, siamo come vi ho detto nel 29, quando va in scena siamo nel 32 siamo durante gli anni del fascismo e il regime non vede di buon occhio una roba del genere perché durante il fascismo le bische sono state tutte chiuse, il gioco d'azzardo è stato debellato almeno questo è quello che vuole insomma dire alla popolazione il regime poi insomma in maniera ecco privata e clandestina magari c'era appunto lo stesso però l'immagine di rappresentare un mondo secondo il regime che non esisteva più non va tanto bene e allora che cosa succede? pare che un prefetto dell'epoca che tra l'altro aveva stima di Edoardo per evitargli dei problemi con la censura e quindi ecco ripeto con il regime pare gli abbia suggerito all'epoca di retrodatare diciamo così i fatti quindi di spostarli a prima del fascismo e infatti la commedia diventa quei figuri di 30 anni fa quindi fine 800 inizio 900 in modo che stiamo parlando di un mondo lontano tant'è che vi leggo qui da uno dei tanti libri di Edoardo che io colleziono, leggo e che utilizzo anche proprio per questi video una recensione dell'epoca quando insomma fu rappresentata a teatro una recensione evidentemente vicina anche al regime diceva in quei figuri di 30 anni fa l'autore ha voluto descrivere un ambiente della malavita napoletana di un tempo tra parentesi fortunatamente tramontato quindi vedete alla fine insomma si riuscì a cogliere nel segno andando a portare indietro i fatti poi che cosa succede? che successivamente viene ancora ripresa pare che altre volte sia stata rappresentata anche con altri titoli tipo il circolo dei cacciatori oppure semplicemente quei figuri ma il cambiamento definitivo avviene nel 1956 quando Edoardo registra per la televisione la prima versione perché sono due le versioni che Edoardo realizza di questa commedia per la tv e in questo caso la commedia diventa quei figuri di tanti anni fa non è più necessario specificare i 30 anni addietro e diventa quei figuri di tanti anni fa titolo che poi rimane anche per la versione a colori del 1978 e che ormai è diventato definitivo anche se io nel titolo, nella miniatura di questo video ho preferito lasciare quei figuri di 30 anni fa perché comunque quando iniziò ad andare in teatro fu quello il vero titolo un'altra curiosità è che Edoardo nel corso del tempo ha cambiato personaggio interpretato è sempre stato tra i protagonisti però inizialmente quando hanno iniziato a rappresentarla dal 32 in poi lui interpretava il pollo ecco l'avvocato Peppino Fattibene che vi dicevo prima perché il ruolo di Luigi Poveretti era di Peppino De Filippo che aveva sempre questi ruoli brillanti questi ruoli strapparisate poi nell'edizione 1956 quella televisiva Edoardo interpreta invece Luigi Poveretti e invece nell'edizione 78 torna a fare l'avvocato forse diciamo quasi per sopraggiunti e limiti di età perché siamo con un Edoardo più o meno 80enne 78 anni quindi va verso gli 80 anni magari non era tanto credibile come personaggio ecco preso per fare tutto il palo memorizzare tutto visto che comunque era un uomo molto anziano e quindi torna a fare l'avvocato con suo figlio Luca nella parte di Luigi Poveretti quindi vedete questi cambi di ruolo quindi vi ho detto ne esistono due versioni 56 e 78 e entrambe le trovate su RaiPlay guardatele tutte e due se vi viene curiosità non la conoscete guardatele tutte e due perché sono diverse tra loro noterete le differenze quella del 78 dura anche un pochino in più e vengono aggiunti dei personaggi soprattutto personaggi femminili che non compaiono nella prima quindi guardatele tutte e due e ditemi qualsiasi vostra considerazione qui sotto noi ci vediamo nei prossimi video del canale e di questa serie ciao